Corvino Bike, Via Taverne 57, Nocera Superiore Ritorna il teatro di Tito di Domenico. Giovedì 23 luglio alle ore 20 e 30, nel chiostro del convento di San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni, la compagnia teatrale L'Edera metterà in scena la nuova commedia dell'autore cavese dal titolo Opatos. L'atto unico, quanto mai attuale, fotografa in chiave comica una realtà familiare ai tempi del Covid ed in particolare durante la fase 2. Ho pensato a questo Opatos che riguarda proprio la seconda fase del Covid-19 e quindi si parlava di recitare con le mascherine. E quindi le mascherine dobbiamo tenerle perché siamo in quella fase e il distanziamento lo dobbiamo tenere perché siamo in quella fase. Quindi è contemporaneo, avremo una fotografia di una realtà familiare in quel periodo della chiusura forzata. Adesso molti hanno messo mano, metteranno mano a questo episodio, a questo evento. Lo faranno sicuramente a livello documentalistico, magari pure tragico, invece io ho voluto conservare il mio spirito napoletano e quindi leggere il comico anche laddove c'è il drammatico. Naturalmente sono sempre risali che non vengono da una fantasia soltanto ma da una lettura di eventi veramente accaduti. No, quindi il teatro è fatto così, no, tutto è finto e niente è falso e di atteggiamenti comici in questo video ne abbiamo avuti moltissimi. C'è un bel messaggio però, alla fine non lo voglio dire perché altrimenti si perde lo sfizio, c'è un finale favoristico, come una favola di altri tempi. L'ingresso allo spettacolo, che si svolgerà in linea con le misure per prevenire la diffusione del Covid-19, è gratuito. Tuttavia gli spettatori avranno la possibilità di fare un'offerta spontanea per sostenere la mensa dei poveri del convento francescano. Una cosa che invece voglio dire, questo lavoro lo faremo nel Chiostro di San Francesco. Noi abbiamo voluto fare questo evento per fare una raccolta per la mensa dei monaci. I monaci non lo sanno perché loro nella loro discrezione non vogliono pubblicizzare la carità e quindi mi fa piacere pure a me. Quindi quella sera non chiederemo soldi, non faremo raccolta di niente, ci sarà magari qualche contenitore da qualche parte e chi vuole con molta discrezione va a mettere qualcosa di sotto se ritiene opportuno di farlo. E se non ritiene opportuno di farlo sperimenteremo ancora una volta che l'amore e la carità si dona senza aspettarsi niente in cambio.